Tu spesso mangi fuori casa immagino, qua ti puoi portare i prodotti, te lo puoi conservare, lavabile, lo puoi lavare miliardi di volte perché resiste ai mille cicli di lavoro, ti regalo Lock & Store, ti regalo anche la confezione, un applauso, come ti chiami? Massimiliano. Come vieni Massimiliano? Bezzo. Cosa fai nella vita se posso? Fornitore navale. Fornitore navale, facciamo un po' di pubblicità alla tua azienda, allora andai su. Ero. Come si chiama, dove è la sede? L'azienda è un'azienda, 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 Perfetto, tu gira la ruota in base a quello che esce dall'altra parte così ti inquadriamo. Ricominciamo con i nomi. Francesco, Paolo, Massimiliano, Luca, Simona, Cristian, Cristian. Bene, le squadre, come le avete denominate? Voi tre siete la uno? Adesso. Andrai in vacanza quest'estate, facciamo prima. Dove c'è da divertirsi? E dove? Non è ancora in Italia. Non hai ancora deciso? Non ho ancora deciso. Dove vorresti andare, per una città? La Puglia. Puglia. Bene, bene. Come si chiama il tuo ristorante? La Nuova Spezia. La Nuova Spezia dov'è? In via? In via la Mendola 54. Perfetto. La specialità qual è? Pesce. 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 Ok.